Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questa piccola e compatta Caravan Elfland 400. Se volete vedere le caratteristiche di questa caravan, cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la scheda del sito Caravan Bacci con le dimensioni, peso e option già compresi. Poi, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina perché sarete sempre avvertiti dei nostri firmati, sia i miei dell'abitabilità, di Nicoretta del negozio e di Andrea degli accessori, sempre molto importanti. Andiamo solo al suo interno. Questa caravan è un matrimoniale grande che si trasforma in tavolo, quindi all'occorrenza se siete in quattro, sempre i tavoli, sia questo che quello posteriore, vanno sempre trasformati da giorno a notte. Invece, se siete in due, questo lo trasformate, lo tenete sempre in basso per farlo diventare un bel matrimoniale e poi quest'altro, come vedete c'è dei buoni contenitori sia davanti che sui lati, l'armadio, la stufa, poi tre fuochi e un bel lavello molto capiente, frigorifo con congelatore, cassettiera e altro contenitore. Il bagno, questo bel lavandino, batter, lo blocco. La parte posteriore, questo può diventare abbassandosi un singolo e poi questo può essere o un contenitore pensile oppure abbassandolo diventa due singoli. Quindi se vi è piaciuta cliccate mi piace, venitelo a vedere che vi rendete conto della sua abitabilità. Sempre a ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!